Andrea Lucita e Bernardo Tizzaro I miei navigatori che si sono susseguiti quest'anno, soprattutto Bernardo con la quale ho condiviso le ultime gare e tutti quelli che hanno permesso che tutto ciò accadesse, sono veramente contento Lo dico spesso, l'Abarth funziona bene dappertutto, è molto performante secondo me è il due ruote motrici più veloci al mondo ad oggi per cui secondo me dobbiamo essere tutti contenti Abarth soltanto il nome mette i brividi, ha una storia veramente incredibile per cui sono contento e fiero di portare questo marchio ancora in alto al giorno d'oggi è tutto veramente molto bello Grazie a tutti